pochi giorni fa Massimiliano Allegri ha detto che adesso compito suo sarà scegliere cioè fare delle scelte scegliere la squadra base ok il tutto al netto del turnover che naturalmente si impone perché hai tanti impegni e soprattutto vuoi centrarli tutti poi dipende da cosa si intende per centrare per esempio anche l'impegno del campionato però comunque è una Juve che vuole risalire la classifica però deve avere un'ossatura base io adesso mi sono fatto questa io cioè io non so nessuno per dire questo però ho rafforzato questa mia sensazione questa mia convinzione fine degli esperimenti fine degli esperimenti Balzarini sta dicendo qualcosa sta portando una piccola critica Massimiliano Allegri no non è proprio una critica però sto dicendo che visto che l'ha detto lui è giusto che adesso la Juve abbia una sua ossatura di base una sua ossatura di base perché sennò poi disorienti troppo cambiare troppo le formazioni crei poi creare della confusione ci sono giocatori visto che lui stesso dice non siamo tutti uguali e ha ragione nella vita dello sport nell'amore ha vinto per tutto nelle relazioni sociali non siamo tutti uguali ci sono quelli più meritevoli quelli meno meritevoli quelli più dotati quelli meno dotati sto parlando di calcio sia chiaro però anche lì vabbè basta basta allora ci vuole un'ossatura di base fino adesso secondo voi possiamo dire che la formazione vista contro lo zeni di san pietroburgo può identificarsi come la migliore proposta può identificarsi come quella ideale non sempre materiale perché ripeto giustamente ogni tanto qualche cambiamento lo devi pure fare ma che possa essere la formazione ideale per trascinare la juve fuori dalle paludine le quali si è buttata secondo me sì secondo me sì può essere una formazione a eccessiva trazione anteriore può esserlo può esserlo perché quando hai in campo di bala chiesa bernardeschi è chiaro che la trazione anteriore scatta automaticamente però io credo che sia la formazione che intanto ha divertito di più quest'anno mi direte ma chi si è mai divertito prima è vero forse non ha molto divertito però quella di 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 martedì contro lo zeni di san pietroburgo secondo me è stata una formazione divertente che ha trovato anche i suoi equilibri perché è vero a grossa trazione anteriore ma comunque al tempo stesso equilibrata di bala morata chiesa bernardeschi ne avevo dimenticato uno attenzione sono tutti giocatori dalla grande propensione offensiva però a turno rientravano anche in fase difensiva quindi è dimostrato che tanti giocatori di un certo tipo di caratteristiche possono poi adattarsi a giocare in situazioni opposte alle loro caratteristiche dietro bonucci dell'it l'alternativa e chiellini e buttate la via sta alternativa adesso io non sto qui a parlare di una formazione fenomenale sto solo dicendo che secondo me questa potrebbe essere l'impostazione di base della juventus del futuro a patto a patto che le si dia continuità di rappresentazione e quindi di espressione sul campo non significa bocciare gli altri significa che dovendo tu scegliere tra una rosa di 25 persone 11 giocatori da mandare in campo all'inizio hai messo in chiaro che ci sono 11 giocatori che meritano di più per doti tecniche umane per impegno per comportamento per dedizione al lavoro per tutta una serie di motivi meritano probabilmente più di altri di essere messi in campo all'inizio poi quando saranno da far rifiutare subentreranno degli altri quando ci sarà la necessità di non farli partire dall'inizio e partire dall'inizio degli altri ma sapranno quegli 11 e io dico quegli 11 visti contro lo zeni mi tengo quadrado come possibilità di inserimento in un 11 titolare anche se il quadrado degli ultimi tempi mi sembra abbastanza spento ma si si ricaricherà ecco io credo che quella possa essere la formazione che può guidare la juventus fuori da questa palude fuori da questo pantano nella quale si è infilata ho appena partecipato ad una trasmissione sul web signora omicidi con mirco di natale conduttore e nella quale ho avuto il piacere anche di condividere un po' di opinioni e è intervenuto il collega del giornale nicolò schiera che ha parlato di una esistente trattativa per blaovic lui è sicuramente più esperto di mercato di me anche se io comunque mi tengo informato sul mercato della juventus e che ci siano stati contatti è vero lui spiegava che c'è stato un contatto tempo fa con cherubini che ha dato origine poi alla presa di posizione di commisso che in sostanza ha deliberatamente annunciato che blaovic non avrebbe rinnovato il contratto si sarebbe stizzito per un colloquio tra blaovic e la juventus questo che peraltro apre diciamo qualche orizzonte sul giocatore è sicuramente un dato molto importante resta resta la difficoltà economica nell'acquisizione di un giocatore di questo genere e vi spiego perché è ancora più difficile in questo momento fare un'operazione alla chiesa cioè due anni di prestito più un riscatto di 50 milioni circa che la fiorentina percepirà alla fine di questa stagione perché lui dovrà tirare fuori 50 milioni sia pure rateizzati da dare alla fiorentina alla fine di questa stagione mettete anche questo nel bilancio è molto semplice chiesa aveva due anni di contratto con la fiorentina blaovic ne ha uno solo quindi la parte diciamo così fissa qualora si andasse a questa operazione sarebbe più ampia ok in questo caso potrebbero essere 50 milioni ma da versare subito l'anno prossimo cioè dalla fine della stagione 2022-23 non so se mi sono spiegato ecco perché ho delle perplessità sul fatto che questa operazione possa essere portata a compimento ho delle perplessità per una difficoltà obiettiva detto questo l'ho detto anche in questa trasmissione considero blaovic uno degli attaccanti più completi in europa è bravo di testa di piede sa muoversi senza palla sa muoversi con la palla tira di destro e sinistro batte i rigori e segna pure su punizione cosa si vuole di un attaccante ecco perché comissolo ritiene un patrimonio non dico inestimabile perché comunque valutato 60 milioni ma secondo me a fine campionato a fine stagione la sua valutazione del lievitere ancora perché lui si sta comportando una grande professionista quindi restano in me le perplessità su questa operazione pur avendo avuto la conferma che c'è stato un contatto tra cherubini e l'entourage di blaovic vedremo come andrà a finire mi chiedevate di jattaren bene la notizia è fresca si può leggere c'è anche su one football per esempio non è vero che si ritira per depressione gli è mancato il padre nel 2019 è andato in depressione lo capisco so cosa vuol dire però non è vero che si ritirerà dal calcio tornerà molto presto si tratta di capire se tornerà con la sandoria o se deciderà di rimanere in patria che vorrebbe dire rompere sostanzialmente anche con la juventus perché la juventus è proprietaria del cartellino la juventus ha preso un impegno con la sandoria di darglielo in prestito fino alla fine di questa stagione e quindi adesso si tratta di capire cosa succederà a questo ragazzo del quale si parla stra bene però onestamente non l'abbiamo visto all'opera e quindi non lo possiamo giudicare basta per oggi credo che possa bastare così mi scuso per l'orario riuscito di questo video abbiamo fatto un po tardi tutti questa sera iscrivetevi al canale e iscrivetevi a quello di mio figlio seguitemi sui social e l'appuntamento è a domani per commentare le parole di massimiliano allegri che tra l'altro parlerà molto presto alle 11 e mezza del mattino al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao